Ed Egnago 1-0, il Padova vince con Renate in casa, Trento, Piacenza 0-0. Intanto è Di Molfetta che agisce largo sulla destra, limite del lato corto dell'Ara, la mette in mezzo al colpo di tacco di Spagnoli, arriva alle sue spalle, Denis Ergelin per il vantaggio verde-blu, Pechino Express, lo cercava da tanto, l'aveva sfiorato in più occasioni, oggi è arrivato, quando siamo giunti al ventesimo minuto e 45 secondi, il vantaggio verde-blu che sradica la difesa del Fiorenzola con una bellissima azione di Molfetta, largo sulla destra, la mette in mezzo, il mezzo velo di Spagnoli che riesce anche a toccarla. Si ha provato addirittura il tacco fuori di Carrara, ecco Dimo che prova lui, anzi no, vedi da uno schermo. Lascia Carraro, Di Molfetta si butta sul lato corto, riserva ancora dietro, Carraro, sguardo al centro, parte il traversone, colpo di testa, il raddoppio dei Leoni di Gara, proprio lui, il toro di Pordenone, spero il raddoppio verde-blu, bellissimo il suo, tocco di testa sulla palla al bacio come al solito del nostro joystick, Federico Carraro, sono trascorsi quattro minuti dall'inizio della ripresa, l'avevamo detto, dovevamo ripartire.